Dunque, in questa lezione parleremo del tessuto nervoso, inizieremo a parlare del tessuto nervoso. Innanzitutto, che cos'è il tessuto nervoso? Quali sono le caratteristiche che ha il tessuto nervoso? Il tessuto nervoso è un tessuto formato da due elementi, sostanzialmente. Il primo elemento, che è quello funzionalmente più importante, è il neurone. E poi sono una serie di altri elementi, i detti elementi gliali o nevroglia o altri nomi, che servono appunto a connettere i neuroni fra di loro. Il neurone, però, che dà la funzionalità al tessuto nervoso, ha due caratteristiche. È un neurone, è una cellula irritabile, cioè che si lascia irritare da uno stimolo nervoso e che è in grado poi di condurre questo stimolo. Quindi queste due caratteristiche rendono il tessuto nervoso adatto a ricevere impulsi e a trasmetterli. Il tessuto nervoso, come ogni tessuto, ha le sue colorazioni preferenziali. Sono molte le colorazioni, diciamo, del tessuto nervoso. Tuttavia, quelle più importanti sono la colorazione di Golgi, o anche detta reazione nera, che permette di mettere in evidenza pochi neuroni, ma nella loro interezza, quindi di vederli nella loro interezza. Poi c'è la colorazione di Cahal, che invece è preferenziale non tanto per i neuroni, ma per quelli che, vi dicevo, essere gli elementi gliali, cioè quegli elementi non neuronali, che però sono importanti perché servono a connettere i vari neuroni fra di loro e a regolarne anche le funzioni. Poi c'è un'altra colorazione, che invece usa come fissativo il tetrossido di Osmo, che va invece a colorare i lipidi della guaina mielinica, che vedremo essere una delle caratteristiche strutturali di molti neuroni. Queste, dicevo, sono le colorazioni principali. In realtà poi ce ne sono diverse. Anche un'emato stilineosina ci permette di vedere il neurone. Però, se lo vogliamo vedere in maniera specifica, possiamo usare queste colorazioni. Bene, adesso quindi vediamo, analizziamo attentamente che cos'è il neurone e come è fatto. In particolare, soffermiamoci sulla sua struttura, quindi come è fatto proprio a livello morfologico. Su quanti tipi di neuroni abbiamo, e quindi la classificazione, e su quello che è il rivestimento dei neuroni, che è un qualcosa che va a aiutare lo svolgimento delle azioni del neurone. Dunque, a livello della struttura, noi dobbiamo distinguere tre elementi nel neurone. Una parte detta corpo cellulare, o anche chiamata pirenoforo, che è appunto la parte principale del neurone. Dal pirenoforo poi si dipartono i dendridi, che sono più prolungamenti, e un unico prolungamento che è il neurite, anche detto assone. Ma andiamo con ordine e partiamo dal corpo cellulare. Dunque, il corpo cellulare rappresenta la centrale operativa del neurone. Il vero e proprio corpo, da cui parte poi tutto, da cui vengono sintetizzate tutte le sostanze e le molecole, che poi andranno nei dendridi e nel neurite. Innanzitutto, il pirenoforo di una cellula nervosa può avere forme diverse. Ci sono infatti cellule nervose che hanno un pirenoforo a forma di stella, oppure cellule che hanno un pirenoforo di forma triangolare, e infine anche cellule con le forme piramidali. Queste sono, diciamo, le tre forme più comuni del pirenoforo, ma in realtà ci sono cellule che hanno anche forme diverse da queste. Ma scendiamo adesso nel dettaglio. Andiamo a vedere a livello ultrastrutturale come è fatto il pirenoforo. Prima cosa è una cellula, quindi come ogni cellula avrà un nucleo. In particolare, il nucleo del neurone è un nucleo grande, rotondo e centrale nel pirenoforo, con una cromatina dispersa. Oltre a queste caratteristiche, inoltre, possiamo individuare, a livello del nucleo, altre due strutture peculiari, che sono il corpuscolo di Bar, che già abbiamo individuato a livello dei neutrofili del sangue, quindi questa parte di cromatina molto addensata, visibile nella periferia del nucleo, e poi il corpo di Kaal, che è una struttura dalle funzionalità ancora non note. Si pensa, si è visto, che questo corpo di Kaal possa avere delle implicazioni nei processi di divisione cellulare dei neuroni, prima che poi questi perdano la capacità di dividersi. Però ancora adesso è frutto di diversi studi. Scendiamo adesso a vedere come è fatto il citoplasma. Quindi del nucleo abbiamo parlato, sono queste le strutture più importanti. Ma nel citoplasma cosa troviamo? La caratteristica del citoplasma di un neurone è la presenza dei cosiddetti corpi di NISL. Cosa sono i corpi di NISL? I corpi di NISL sono dei veri e propri aggregati di RNA ribosomiale e di RNA messaggero, che vanno a formare all'interno dell'acidoplasma nel neurone tante zone, appunto tanti corpi separati fra di loro. Questo conferisce al pirenoforo un aspetto tra virgolette tigrato, ed è per questo anche che i corpi di NISL nel complesso vengono detti anche sostanza tigroide, perché è da questo aspetto quasi come se fosse il mantello di una tigre. Perché sono importanti questi corpi di NISL? E cosa ci dicono i corpi di NISL? Sono aggregati di ribosomi e di RNA messaggero. Quindi questo ci fa capire che all'interno del citoplasma del neurone c'è un'elevata sintesi proteica. E questo già l'avevamo più o meno intuito quando abbiamo visto che il nucleo aveva una cromatina dispersa. Quindi il neurone è una cellula molto attiva e i corpi di NISL ne sono proprio la testimonianza. Nel citoplasma troviamo poi anche elementi citoscheletrici e in particolare i microtubuli. Microtubuli che abbiamo visto in generale avere un ruolo molto importante nel trasporto intracellulare. E nel neurone vedremo che il trasporto intracellulare è di fondamentale importanza. e in particolare i filamenti intermedi che prendono il nome di neurofilamenti che ovviamente hanno più un ruolo strutturale cioè servono a mantenere il pirenoforo nella sua forma e a far sì che tutti gli elementi rimangano in posizione. Oltre a queste componenti citoscheletriche il citoplasma del pirenoforo è ricco di lisosomi. I lisosomi cosa sono? Sono degli elementi appunto che servono a degradare delle sostanze di rifiuto e a recuperarle. Quindi questo ci fa capire che a livello del pirenoforo ci sarà un'elevata attività di questo tipo di riciclo che vedremo poi interesserà a diverse componenti della citoplasma. Bene, dopo aver analizzato il corpo cellulare adesso soffermiamoci sui dendrigli. Cerchiamo di capire cosa sono i dendridi e a cosa servono. I dendridi sono delle vere e proprie estroflessioni della membrana del pirenoforo che possono ramificarsi fra di loro e che hanno un ruolo molto importante nella captazione dell'impulso nervoso. Cioè sono gli elementi del neurone che captano l'impulso nervoso proveniente da un altro neurone. Scendiamo adesso a vedere come sono fatti. Dunque, se noi prendiamo un dendride e lo analizziamo a livello ultrastrutturale vediamo che il dendride ha diversi rigonfiamenti cioè ha delle zone dove il citoplasma si estroflette. Queste zone sono dette spine dendridiche. A cosa servono? Sono le zone a livello delle quali avviene la trasmissione sinaptica. Infatti, come fa l'impulso ad arrivare a un nuovo neurone? Passa dall'assone di un neurone precedente ai dendridi del neurone successivo. Le sinapsi avvengono a livello delle spine dendridiche. Adesso le spine dendridiche hanno una caratteristica che le rende molto importanti. Sono formate al loro interno di microfilamenti di actina. Questo è un dato molto importante a ben pensarci. Perché? Perché ci fa capire che le spine dendridiche sono sottoposte a un continuo rimodellamento. Rimodellandosi le spine dendridiche si rimodellano anche le sinapsi. Questo si è visto avere anche un ruolo molto importante nei processi di memorizzazione del nostro cervello. Cioè, in base a quante sono le spine dendridiche e a come si rimodellano fra di loro cambiano le sinapsi e quindi cambiano i processi che i neuroni riescono ad innescare. Bene, adesso, dopo aver visto i dendridi vediamo il neurite o anche detto assone. Cerchiamo anche in questo caso di capire a cosa serve e come è fatto. Innanzitutto, il neurite è un unico prolungamento che parte dal pirenoforo solitamente, non sempre, solitamente, dal polo opposto ai dendridi. Si ha una parte dal pirenoforo che prende il nome di cono di emergenza e dal cono di emergenza parte il neurite. Sostanzialmente, qual è il compito del neurite? È prendere l'impulso che è arrivato dai dendridi e passato al pirenoforo e trasportarlo ad un altro neurone. Però, come vedremo, il neurite svolge anche altre funzioni. Scendiamo quindi nell'ultrastrutturale. Dunque, il neurite presenta un'elevata quantità di elementi citoscheletrici, in particolare neurofilamenti e soprattutto microtubuli. Oltre a questi, sono presenti molti mitocondi e delle vescicole. Questo perché? Perché qui avverrà una cosa molto importante, il trasporto di queste vescicole che vedremo andrà dal pirenoforo alla fine dell'assone e viceversa. Quindi è importante che ci siano microtubuli che sono proprio i binari su cui avviene questo trasporto, le vescicole che sono il materiale, che contengono il materiale da trasportare e i mitocondri che conferiscono l'energia necessaria per il trasporto. Adesso, il trasporto può essere di due tipi. Il primo tipo è il trasporto lento. Cioè, si tratta di un trasporto che avviene in pochi centimetri al giorno, quindi è un trasporto lento e avviene in maniera unidirezionale e retrograda. Cioè, è un trasporto che avviene dalla fine dell'assone al pirenoforo. Questo tipo di trasporto, proprio per questa direzionalità, è detto flusso-asso-plasmatico, cioè dall'assone al citoplasma. A cosa serve? Serve a trasportare materiali che devono essere ricambiati dalla fine dell'assone, e quindi li portano al pirenoforo. E anche componenti come filamenti o componenti citoskeletri che hanno bisogno di essere sostituite, perché ormai troppo vecchie oppure troppo usurate e quindi sostituite con del materiale nuovo. Il trasporto invece veloce è un trasporto che può avvenire in due direzioni. Sia anterograda, quindi dal pirenoforo alla fine dell'assone, che in maniera retrograda. È un trasporto quindi bidirezionale che avviene in molti centimetri al giorno ed è detto proprio perché interessa molto l'assone flusso-assonico che avviene sia da una parte che dall'altra. Adesso a cosa serve l'anterogrado? A cosa serve il retrogrado? L'anterogrado trasporta o i mitocondri o le vescicole. Questo perché? Perché alla fine del neurone vedremo, alla fine dell'assone, noi avremo la sinapsi che rappresenta quel dispositivo che ci permette di passare l'impulso da un neurone all'altro e la sinapsi per la maggior parte è chimica, quindi ha bisogno di vescicole contenenti neurotrasmettitori ma anche di energia e quindi mitocondri per tutti i processi che qui dovrà compiere. Il retrogrado invece avviene in maniera opposta, quindi sempre in molti centimetri al giorno e trasporta materiali da ricambiare quindi sia materiali di natura proteica che vescicole utilizzate ma può anche trasportare dei virus e il caso dell'herpes che viene appunto trasportato attraverso il diciamo il trasporto retrogrado del neurone e quindi diventa un'arma un processo che può anche creare dei danni al neurone perché può captare virus o anche tossine batteriche internalizzarle e portarle al pirenoforo dove poi svolgono un'azione tossica. Vi dicevo quindi che la parte di stare dell'assone contiene tutte le strutture per le sinapsi ed è per questo che poi c'è questo trasporto veloce di componenti perché ovviamente l'impulso viene trasmesso in maniera molto veloce quindi c'è bisogno che le vescicole che vengono utilizzate vengano ricambiate che i mitocondri che hanno esaurito il loro compito oppure che hanno lavorato troppo devono tornare indietro e quindi questo determina questo trasporto veloce. Il trasporto lento invece serve per gli elementi non urgenti quindi elementi che possono essere ricambiati anche con un tempo diciamo più lento. bene dopo aver visto quindi come è fatto un neurone adesso vediamo quanti tipi di neuroni abbiamo perché questo comunque è la struttura di un neurone generico ma i neuroni non sono tutti uguali fra di loro ma cambiano a seconda del ruolo che hanno e della funzione che devono svolgere ci sono due criteri con cui possiamo classificare un neurone lo possiamo classificare in base al comportamento che ha l'assone o in base al numero dei dendriti che il neurone ha vediamo innanzitutto come si classifica un neurone per il comportamento dell'assone dunque il sistema nervoso centrale o meglio quel sistema nervoso formato dall'encefalo e dal midollo spinale è formato da due componenti una sostanza che ha un aspetto più biancastro e per questo viene detta sostanza bianca è una sostanza invece che ha un aspetto più grigio e viene detto sostanza grigia questo è dovuto alla diversa struttura dei neuroni non l'abbiamo ancora visto ma sappiamo che i neuroni avranno poi nell'orassone una guaina mielinica la mielina è bianca e quindi tutte le guaine mieliniche assieme vanno a formare la sostanza bianca pirenofore e dendriti che invece non avranno la guaina mielinica formeranno la sostanza grigia adesso la sostanza grigia a livello dell'encefalo quindi della parte del sistema nervoso centrale che è compresa nel cranio sta all'esterno mentre la sostanza bianca sta all'interno nel midollo spinale cioè la parte del sistema nervoso centrale che si trova all'interno del canale vertebrale avviene il contrario cioè la sostanza bianca in minore quantità si trova all'esterno e la sostanza grigia all'interno perché questo perché in base a sostanza grigia e sostanza bianca possiamo definire neuroni del primo tipo di Golgi e del secondo tipo di Golgi i neuroni del primo tipo di Golgi sono neuroni il cui assone essendo molto lungo abbandona la sostanza grigia per rimettersi nella sostanza bianca saranno per capirci tutti quei neuroni che avranno una guaina mielinica o un neglio che avranno un assone così lungo da entrare completamente nella sostanza bianca e quindi da mielinizzarsi questi neuroni si possono trovare sia a livello dell'encefalo che a livello del midollo spinale sempre lo stesso comportamento pirenoforo e dendriti nella sostanza grigia assone nella sostanza bianca tuttavia c'è un altro elemento da non trascurare che alcuni neuroni possono partire dalla sostanza bianca dell'encefalo e scendere fino alla sostanza bianca del midollo spinale quindi non è detto che un neurone debba per forza esaurire il suo assone al livello dell'encefalo ci sono ad esempio a livello della corteccia encefalica cioè della zona in cui sono presenti i corpi cellulari e i virenoferi dei neuroni dell'encefalo delle cellule dette cellule piramidali giganti da cui parte un assone che scende lungo tutto l'encefalo fino ad arrivare al midollo spinale può arrivare anche ai segmenti più caudali del midollo spinale cioè fino ai segmenti più bassi allo stesso modo poi ci sono delle fibre che possono partire c'è dei neuroni in cui assone può partire dal midollo spinale e arrivare e salire fino all'encefalo quindi i neuroni del primo tipo di Golgi in definitiva sono dei neuroni in cui assone si mette nella sostanza bianca però attenzione non è detto che devono rimanere per forza nella sostanza bianca dell'encefalo o del midollo spinale possono anche raggiungere la sostanza bianca a distanza quindi del midollo spinale se partono dall'encefalo o dell'encefalo se partono dal midollo spinale i neuroni invece del secondo tipo di Golgi hanno un comportamento opposto cioè sono neuroni così brevi così corti da non entrare nella sostanza bianca ma da esaurirsi dopo poco nella sostanza grigia questo ci fa capire che quindi l'assone di questi neuroni sarà privo di mielina avremo infatti una guaina amielinica questo che cosa significa sono neuroni piccoli talvolta addirittura le neurite si confonde con i dendridi ma non per questo sono meno importanti di solito questi neuroni sono neuroni detti interneuroni oppure neuroni associativi cioè che servono ad associare le funzioni di più neuroni in modo tale da farli cooperare assieme vediamo adesso la classificazione dei neuroni in base al numero di dendridi allora un neurone che contiene che ha sulla sua superficie molti dendridi è detto neurone multipolare cioè ha diversi dendridi ma sempre un unico assone questi neuroni multipolari sono molto rappresentati nel nostro organismo soprattutto sono neuroni multipolari i motoneuroni cioè quei neuroni che hanno il compito di trasmettere un'informazione motoria ai muscoli qual è il significato di avere molti dendridi? ogni dendride attraverso le spine fa diverse sinapsi questo significa che alla fine al pirenoforo arriveranno più impulsi perché un dendride potrà fare una sinapsi eccitatoria un altro una sinapsi inibitoria e via dicendo l'impulso quindi i vari impulsi si sommano e così formati arrivano all'assone quindi il significato del neurone multipolare è quello di avere un fine controllo dell'impulso che arriva poi alla fine perché se ci fosse soltanto una sinapsi sarebbe quello l'impulso invece essendoci più sinapsi perché ci sono più dendridi l'impulso che arriva alla fine è un impulso che diciamo modulato cioè che è stato finemente controllato dall'azione di più neuroni e quindi di più sinapsi poi ci sono invece i neuroni unipolari cioè i neuroni che non hanno dendridi ma hanno soltanto un unico prolungamento questi neuroni li troviamo a livello del sistema olfattivo e sono neuroni poco rappresentati all'interno del nostro organismo in questo caso la sinapsi avviene direttamente sul pirenoforo e quindi non c'è bisogno dell'intermediazione di dendridi sono diciamo proprio l'opposto dei neuroni multipolari questi sono i neuroni bipolari o anche detti neuroni oppositopolari cioè si tratta di neuroni che hanno due prolungamenti dei quali uno funge da dendride e uno funge da assone queste sono cellule che troviamo ad esempio in pochi che hanno principalmente un ruolo di mediazione del segnale cioè di modifica del segnale oppure possono anche avere un ruolo di percezione sensitiva ad esempio le cellule che permettono che alcune cellule intercalate alla via acustica cioè la via che ci permette di percepire i segnali acustici sono proprio dei neuroni bipolari e quindi hanno anche questo ruolo nella sensibilità poi ci sono invece i neuroni pseudo unipolari che sembrano avere soltanto un polo infatti esce solo un prolungamento dal pirenoforo ma in realtà questo polo dopo pochissimo subito si biforca e quindi forma due prolungamenti uno centripe cioè due prolungamenti diversi fra di loro uno di questi prolungamenti fungerà ad endride e l'altro ovviamente è la neurite i neuroni pseudo unipolari sono anche neuroni coinvolti nella sensibilità anzi sono i neuroni principalmente coinvolti nel sistema sensitivo perché avranno questo rammo centrifugo cioè questo rammo che andrà in periferia e prenderà l'impulso dei recettori e il rammo centripeto invece che quindi sarà per capirci l'assone che porterà il segnale a livello del sistema nervoso centrale infine poi ci sono i neuroni amacrini che invece sono piccoli neuroni in cui addirittura il dendride si confonde con l'assone non sono ben distinguibili fra di loro e anche questi sono elementi di associazione sono presenti ad esempio a livello della retina e servono proprio ad associare il funzionamento di più neuroni fra di loro e possono avere anche delle forme un po' particolari e quindi prendere nomi diversi ad esempio alcuni neuroni amacrini hanno una forma sviluppata sul piano orizzontale e per questo prendono il nome di cellule orizzontali bene dopo aver visto quindi la classificazione dei neuroni adesso possiamo parlare del rivestimento dei neuroni cerchiamo di capire cos'è il rivestimento i neuroni per funzionare hanno bisogno di un qualcosa che li rivesta al loro intorno questo perché? perché dobbiamo pensare ai neuroni un po' come dei fili elettrici perché il loro compito abbiamo detto sarà trasportare un impulso e l'impulso nervoso altro non è che una specie di scossa che naviga dal neurone all'altro e di qui poi diciamo arriva a destinazione se questi fili elettrici fossero scoperti l'impulso si perderebbe c'è bisogno quindi di un sistema di rivestimento dei neuroni in modo tale che l'impulso non venga dissipato ma continui da un neurone all'altro fino ad arrivare alla destinazione questo è il motivo per cui abbiamo i rivestimenti rivestimenti che quindi sono diversi a seconda che parliamo dei dendriti o del pirenoforo o del neurite dei dendriti e del pirenoforo vedremo ci saranno delle cellule che andranno a formare delle strutture chiamate gangli che cerchiamo di capire poi cosa sono il neurite invece potrà avere due tipi di guaina o una guaina mielinica o una guaina amielinica quindi adesso vediamo come sono rivestiti i dendriti e il pirenoforo e quindi vediamo che cos'è un ganglio dunque i dendriti e il pirenoforo sono rivestiti da elementi cellulari detti elementi gliali cioè quei famosi elementi che vanno ad unire fra di loro i neuroni e ad aiutarli nel loro funzionamento queste cellule gliali appunto che poi tratteremo meglio nel dettaglio più in là vanno a rivestire il corpo cellulare e i dendriti del neurone in esame in particolare la maggior parte e quindi in questo rivestimento formano dei gangli la maggior parte dei gangli sono formati da neuroni pseudo unipolari c'è neuroni che hanno il classico aspetto a T tuttavia ci possono essere anche altri tipi neuronali fatto sta che nel complesso queste cellule gliali uniscono fra di loro i vari dendridi e corpi cellulari dei neuroni e formano quella struttura che prende il nome di ganglio i gangli sono dei veri e propri rigonfiamenti che contengono tanti dendridi e tanti pirenofori vediamo invece adesso il rivestimento del neurite e partiamo con la guaina mielinica abbiamo detto quindi prima che il sistema nervoso centrale quindi encefalo più midollo spinale è formato da sostanza grigia e sostanza bianca la sostanza bianca è dovuta proprio alla guaina mielinica cioè al rivestimento degli assoni dei neuroni adesso a livello del sistema nervoso centrale la guaina mielinica è fornita da un tipo di cellule che prende il nome di oligodendrociti sono sempre cellule gliali cioè cellule che fanno parte non della popolazione neuronale ma che cooperano con i neuroni gli oligodendrociti quindi sono cellule da cui partono diverse braccia ogni braccio va poi a formare una parte del rivestimento sull'assoni dei neuroni la peculiarità degli oligodendrociti è che un solo oligodendrocita può rivestire gli assoni di più neuroni a livello invece del sistema nervoso periferico non abbiamo gli oligodendrociti ma abbiamo le cellule di Schwan cioè in questo caso non sono un'unica cellula non è un'unica cellula da cui partono i prolungamenti ma sono più cellule che si dispongono attorno all'assone lasciando un piccolo spazio fra l'una e l'altra e quindi in questo modo vanno a formare il rivestimento completo adesso il processo con cui si forma il rivestimento è sempre quello quello che cambia però è il tipo di cellula oligodendrocita a livello del sistema nervoso centrale cellule di Schwan a livello del sistema nervoso periferico e vediamo quindi come avviene questo processo di mielinizazione cioè di formazione della guaina mielinica in questo caso abbiamo preso il neurite tagliato trasversalmente e poi nella cellula di Schwan ma poteva anche essere tranquillamente il prolungamento di un oligodendrocita allora cosa succede la cellula di Schwan inizia ad emanare delle estroflessioni cellulari diremmo abbraccia gradualmente l'assone a un certo punto però queste braccia arriveranno ad incontrarsi il punto in cui le due braccia si incontrano prende il nome di mesa assone ma non finisce qui una volta che si sono incontrate nel mesassone un braccio dell'estroflessione va sotto e un braccio invece va sopra quindi non finiscono qui di incontrarsi il risultato finale è questo cioè una serie di avvolgimenti attorno all'assone e questo determina quindi il classico aspetto della guaina mielinica poi al microscopio elettronico cioè una serie di lamelle concentriche all'assone centrale ma vediamo meglio come sono fatte queste lamelle allora abbiamo delle linee dense maggiori e delle linee intraperiodo cosa significa? proviamo un attimo a rifletterci sono membrane che si accollano fra di loro quindi ci saranno delle zone in cui il versante esterno delle membrane si accollerà e delle zone che corrisponderanno semplicemente alla parte lipidica delle membrane ebbene le zone di accollamento fra due membrane sono le linee dense maggiori e sono chiamate così perché al microscopio le vediamo più elettron dense le linee intraperiodo invece sono quelle linee più chiare dovute al versante interno delle membrane che si trovano fra due membrane accollate e due membrane accollate e quindi sono intraperiodo le membrane quindi sono delle membrane che hanno poi un'alta quantità di colesterolo quindi un'alta quantità di lipidi e per questo poi danno questo aspetto biancastro se vogliamo alla guena mielinica inoltre le varie membrane giuste apposte sono unite fra di loro da delle giunzioni occludenti perché in questo modo possono rimanere ben collegate fra di loro e non staccarsi però c'è un problema se ci pensiamo un attimo è vero queste membrane si avvolgono ma comunque in queste membrane c'è del citoplasma sono pezzi di cellula e questo citoplasma deve vivere perché se non riceve il nutrimento necessario dalla cellula muore quindi c'è un sistema che diciamo ha il suo punto fondamentale nelle cosiddette incisure di Schmidt-Lantherman dove ci sono appunto delle zone in cui queste membrane si staccano per un po' e permettono quindi il passaggio di elementi citoplasmatici e quindi di solutive discorrendo attraverso poi le gap junction che collegano le varie membrane queste sostanze vengono passate da un livello all'altro e in questo modo è garantito il nutrimento anche alle strutture più esterne che altrimenti morirebbero perché non avrebbero più nutrimento che viene dalla cellula principale qual è il risultato quindi ogni cellula di Schwann avvolge una porzione del neurone e quindi si ha la formazione della guaina mielinica attenzione però perché ci sono dei punti in cui la guaina mielinica non c'è cioè che significa che non ci sono tutti quegli avvolgimenti ma c'è soltanto una piccola propagine della cellula di Schwann che copre quella parte dell'assone facendo l'esempio sempre del filo immaginiamo che il filo elettrico al centro sia rivestito da una parte più spessa di gomma e poi una parte sottile parte spessa parte sottile questo perché perché i punti in cui c'è la parte sottile detti nodi di Ranvier saranno importanti per la conduzione dell'impulso perché perché la guaina mielinica è un isolante come la gomma del filo elettrico e quindi non può lì condurre l'impulso ma la parte in cui invece è più sottile permette la conduzione dell'impulso e quindi poi vedremo che questo avrà dei significati funzionali molto importanti per il neurone le cellule le cellule di Schwan però devono sostenersi su qualcosa ok avvolgono il neurone però hanno bisogno di una guaina di sostegno una sorta di membrana basale questa membrana basale è formata da uno strato più interno che aderisce alle cellule di Schwan e uno strato più esterno che prende il nome di guaina reticolare di K. Heretius strato interno e strato esterno non sono separati fra di loro ma anzi sono strettamente accollati fra di loro mediante una serie di molecole fra cui di strofina di stroglicano e via discorrendo questo è molto importante perché se questa guaina reticolare viene a mancare oppure viene danneggiata le conseguenze sono gravi classico esempio il Mycobacterium lepre cioè il batterio della lebra va proprio ad attaccare queste molecole di unione con la guaina reticolare e quindi quale sarà l'effetto? che la guaina reticolare va a rompersi lo strato interno va a rompersi le cellule di Schwan non hanno più un sostegno non riescono più a mielinizzare l'assone e quindi poi si hanno delle conseguenze sulla trasmissione dell'impulso questa era la guaina mielinica però non tutti i neuroni sono mielinici esistono anche dei neuroni ammielinici il fatto che siano ammielinici non significa che sono nudi hanno sempre un rivestimento però questo rivestimento è più elementare e per questo si parla di guaina ammielinica anche per la guaina ammielinica avremo delle cellule che a intervalli vanno a coprire varie porzioni dell'assone quello che cambia però è come viene fatto il rivestimento la guaina mielinica infatti è formata sempre da cellule simili alle cellule di Schwan che avvolgono il neurone ma soltanto una volta cioè una volta che le due braccia si incontrano è finito l'avvolgimento questo che significa che la parte attorno all'ipotetico filo che è appunto l'assone è molto sottile quindi in realtà ci sarà una dispersione dell'impulso e quindi la conduzione dell'impulso vedremo poi sarà più lenta a questo punto vediamo alcune immagini alla microscopia elettronica del neurone in questo caso vediamo un assone tagliato tagliato trasversalmente con la sua guaina mielinica vedete appunto le linee dense maggiori e le linee dense minori della guaina e all'interno poi c'è l'assone tagliato trasversalmente in cui sono evidenti in un taglio trasversale varie strutture fra cui appunto i microtubuli tagliati trasversalmente o anche delle vescicole e quindi questo ci fa capire quello che era poi il contenuto del neurite ancora un altro neurone un altro neurite tagliato trasversalmente addirittura qui in periferia riusciamo a vedere il nucleo e il citoplasma della cellula di Schwann e nel taglio trasversale del neurite è anche stato preso un mitocondrio in sezione trasversale qui invece vediamo un oligodendrocita quindi al centro c'è l'oligodendrocita e questo oligodendrocita emana più propaggini che sono tutte quelle propaggini che ci sono attorno che vanno a circondare diversi assoni mielinizzandoli e quindi formando la guaina mielinica bene con il rivestimento abbiamo finito la trattazione sul neurone però adesso c'è da porsi un problema ne abbiamo detto che i neuroni devono collegare il centro con la periferia e la periferia con il centro il neurone non vada solo in periferia ma si organizza in alcune strutture che sono proprio dei collegamenti fra il centro e la periferia del corpo queste strutture prendono il nome di nervi i nervi non sono altro che aggregati di più assoni neuronali di più neuroni che viaggiano assieme in un unico sistema vediamo come sono fatti allora noi abbiamo appunto il singolo neurone con il proprio assone questo assone viene rivestito da cellule di schwan strato interno guaina reticolare di cherezius e viene rivestito anche da un ulteriore strato di connettivo che prende il nome di endonevrio in questo modo si ha la singola fibra nervosa più fibre nervose adesso quindi fibra nervosa è assone con il suo rivestimento più fibre nervose adesso si mettono assieme si accollano una all'altra e a gruppi vengono rivestiti da un ulteriore strato di connettivo che prende il nome di perinevrio più fasci adesso con i propri perinevri vengono rivestiti da un unico strato esterno che prende il nome di epinevrio in questo modo si ha la formazione del nervo completo è importante notare che il nervo è un'unità autonoma cioè possiede la propria vascularizzazione ci sono dei vasi che perforano l'epinevrio passano nel nel perinevrio e vanno a irrorare i singoli le singole fibre nervose soltanto così e non da soli i neuroni possono raggiungere la periferia poi ovviamente arrivati in periferia si divideranno e andranno a raggiungere le singole terminazioni nervose vediamo alcune immagini sui nervi questo è un nervo taleato trasversalmente a ematossilineosina vediamo proprio quello che dicevamo prima quindi l'epinevrio che riveste il nervo esternamente i singoli fasci separati fra di loro da perinevrio e poi l'endonevrio e qui non lo riusciamo a vedere perché ci vorrebbe un ingrandimento maggiore da notare due cose innanzitutto che nello spazio fra un perinevrio e l'altro ci sono i vasi sanguigni e poi il fatto che spesso ci sono aggregati anche dei raggruppamenti di adipociti quindi una componente adipocitaria qui ancora un altro nervo da letto trasversalmente quindi classico aspetto epinevrio perinevrio e i singoli poi elementi nervosi da notare qui anche attorno un tessuto muscolare striato scheletrico quindi qui il nervo è stato preso sarà un nervo cosiddetto motore cioè che deve dare il segnale di movimento allo scheletro al muscolo scheletrico ed è stato preso proprio nel taglio vicino al muscolo e infine vediamo invece questo taglio longitudinale di un nervo in cui vediamo proprio questa è una zammallori quindi vediamo l'endonevrio in blu il collagene in blu e poi vediamo in rosso i vasi sanguigni e i singoli nervi le singole fibre nervose una a fianco all'altra grazie a tutti grazie a tutti